ciao a tutti i miei piccoli amici bentornati nel canale di cariolina vi ricordate del nostro amico rocco ma quante le combina rocco bene oggi vi leggo rocco e la sua super pizza party siete pronti cominciamo rocco il gatto e la sua super pizza party rocco il gatto ama la pizza rocco ama anche le feste a rocco venne un'idea farò una bella pizza party tutti gli amici di rocco erano arrivati era giunto il momento di preparare la migliore pizza tutti assieme la pizza così sarebbe stata ancora più buona rocco crede che la pizza perfetta sia composta da peperoni e formaggio extra è una festa è una festa una festa con la pizza ai peperoni ma non a tutti piace kelly disse con i peperoni è buona ma mi piacerebbe ancora di più con i brezze sopra rocco e gli amici sono perplessi questa ci giunge nuova ma forse i brezze sono buonissimi è una festa è una festa con la pizza ai peperoni e i brezze lo scoiattolo disse la pizza è buona ma a me piacerebbe che sopra ci fossero anche i pistacchi rocco e i suoi amici sono perplessi pistacchi 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 questa è nuova ma forse i pistacchi sono buonissimi è una festa è una festa con la pizza ai peperoni ai brezze e ai pistacchi il rospo scontroso disse peperoni brezze e pistacchi sono buonissimi ma a me piacerebbe tantissimo la pizza con i sottaceti rocco e i suoi amici sono perplessi sottaceti sottaceti? 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 questa è nuova ma forse i sottaceti sono buonissimi è una festa è una festa con la pizza ai peperoni ai brezze e ai pistacchi e ai sottaceti l'ornitorinco gustavo disse peperoni brezze e pistacchi e sottaceti sono buonissimi ma a me piacerebbe tantissimo la pizza con i pop corn rocco e i suoi amici sono perplessi pop corn pop corn pop corn pop corn pop corn questa ci giunge nuova ma forse i pop corn sono buonissimi è una festa è una festa con la pizza ai peperoni ai brezze e ai pistacchi e ai sottaceti e ai pop corn il coccodrillo disse peperoni brezze e pistacchi sottaceti pop corn sono buonissimi ma a me piacerebbe tantissimo la pizza con la papaya rocco e i suoi amici sono perplessi papaya 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 questa è nuova ma forse con la papaya è buonissima è una festa è una festa con la pizza ai peperoni ai brezze e ai pistacchi e ai sottaceti ai pop corn e alla papaya rocco e gli amici mettono assieme gli ingredienti peperoni brezzel pistacchi sottaceti pop corn e papaya la pizza era così alta che dovettero fermarsi ding la pizza era pronta provare qualcosa di nuovo potrebbe essere divertente provare qualcosa di nuovo potrebbe essere divertente si fecero coraggio e diedero il primo morso e la pizza con peperoni brezzel pistacchi sottaceti pop corn e papaya era immangiabile come la dinamite alla fine la pizza migliore è quella condivisa con gli amici bene bambini se vi è piaciuto questo video non dimenticate di mettere un bel mi piace di condividere con i vostri amici ma soprattutto di iscrivervi al canale un bacio alla prossima cariolina ciao 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 ciao